Un duello rusticano fra giovanissimi consumatosi in uno spazio di pertenenza di una scuola di paternò, sfociato in un accoltellamento, per fortuna con limitate conseguenze per la vittima, un 14enne. Il rivale, di un anno più grande, è stato poi rintracciato nelle ore successive dai carabinieri della locale compagnia. I fatti quest'oggi intorno alle 13.30 in uno spazio esterno della succursale di Via Libertà dell'Istituto Comprensivo Giovanni Battista Nicolosi, dove è iniziata una lite fra i due ragazzini, probabilmente per questione di cuore, da prima verbale e ben presto degenerata. Al culmine dell'alterco, il più grande ha estratto un coltello e colpito il 14enne alla gamba, per poi dileguarsi immediatamente. A soccorrere il ferito sono stati i genitori degli alunni presenti davanti all'Istituto, in attesa del suono della campanella, che hanno immediatamente chiamato il 118 e i carabinieri. Comprensibili momenti di agitazione davanti alla scuola, sin all'arrivo dei soccorsi e alle prime cure per il 14enne, che è stato poi trasportato in un ospedale del comprensorio. Come detto, ha riportato un taglio che non desta preoccupazioni. Per ovvi motivi di privacy, trattandosi di giovanissimi, omettiamo altri particolari di questa incredibile vicenda, su cui gli inquirenti mantengono il massimo riservo. Il 15enne, rintracciato dai carabinieri, è stato poi riaffidato ai genitori, in attesa della decisione della Procura dei minorenni.